Federico, se pensi ai genitori di bambini autistici che non hanno ancora trovato come comunicare con i loro figli, cosa ti senti di dire a questi papà e queste mamma che non riescono a comunicare con i loro figli autistici? Ciocchi! Sì! Ok. Va bene, ecco. Mettila! Ti chiedo scusa. Tu ti chiedi di me! Vado via? Eh? Vado via? No, non andare via. Ok. Va bene. Allora, già, resta bene. Ah, già, resta bene. Questa è una stereotipia, eh? Sì, sì, sì. Ok. Di non avere paura dell'autismo e di mantenere accesa la speranza. Questo, un figlio, lo respira con il cuore. Fino a un anno è stato un bambino meraviglioso, da piccolo era biondissimo, con gli occhi azzuri molto bello, molto vivace, e quindi eravamo felici di questo nuovo ingresso nella nostra famiglia. E verso un anno ha cominciato ad avere una regressione in tutte le forme di comunicazione, di relazione col mondo, diventava sempre più difficile attirare la sua attenzione. E quando abbiamo visto che questo processo era progressivo, di chiusura, no? Nella capacità relazionale e di gestione della realtà, abbiamo cominciato quel ciclo e cominciamo tutti. Cioè, prima vai dal tuo pediatra a dire, questo bambino ha qualcosa che non va. E il pediatra dice, vabbè, ma siete genitori ansiosi, ma aspettiamo. Poi dopo un po' anche il pediatra si rende conto che c'è qualcosa che non va, ci ha mandato ai servizi di neuropsichiatria infantile della nostra ASL, quindi della nostra zona locale, dove hanno fatto un'osservazione di Federico, anche nel tempo, ogni mese, no? Facevano un'osservazione con riprese per vedere i vari cambiamenti nelle sue capacità relazionali, fino a quando poi ci dissero che dovevamo andare a neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, c'è un ospedale specializzato, dove all'altà di 4 anni è arrivata la diagnosi di disturbo generalizzato di sviluppo, che è uno dei disturbi dello spettro autistico. E come avete reagito alla diagnosi? Beh, è stata una bella botta, come per tutti, anche perché Federico era di una chiusura veramente impressionante. Cioè, gli si passava la mano davanti al volto, lui non modificava lo sguardo, se c'era un rumore alle sue spade, lui non si girava. La primaria dell'ospedale ci disse è il caso di autismo più grave che noi abbiamo mai visto in questo ospedale. E questo chiaramente fu, come dire, una botta, no? Per noi notevole. Allora io chiesi cosa potrà fare nella vita questo mio figlio, e loro mi dissero forse potrà fare la seconda elementare. Federico, ha finito il liceo? Ha finito il liceo scientifico, è uno scrittore, è un giornalista, è un conferenziario internazionale, quindi ha fatto molto di più di questo. In questo, secondo me, io comprendo anche perché i medici dicono questo, perché molte persone entrano in una visione errata, dovuta anche alla paura, dicendo questa cosa passerà, questa cosa troveremo un modo per curarla, questa cosa crescendo sparirà. Mentre se uno nasce giapponese, non può poi diventare sudafricano. Non nasce giapponese, è così per tutta la vita. Così anche nasce l'autistico, è un modo di essere della mente, è una neurodiversità, è un modo di essere del cervello, che si può progressivamente adattare a vivere nel nostro mondo, ma autistico sei, autistico rimani, no? Quindi da questo lato, è giusto che loro, come dire in qualche modo, cerchino di togliere le speranze false. Il problema è che a volte si rischia di uccidere anche le speranze giuste che bisogna avere, no? Quella di una costante ricerca, di un'autonomia in più ogni giorno, di un passo in avanti, di un credere che nel futuro si può stare meglio, che è fondamentale. Come avete scoperto come Federico poteva comunicare con voi? Ma fino a otto anni Federico non parlava quasi per niente, diceva delle parole, una parola singola, una singola frase ogni tanto, in condizioni di grande stress emotivo, però non c'era modo di comunicare con lui. E questo oltre al dolore di un genitore, di non poter comunicare con il proprio figlio, c'è anche il fatto di problemi pratici enormi, cioè un bambino comincia a piangere perché sta male, e non si sa se gli fa male l'orecchio, se gli fa male la pancia. Loro autistici a noi ci chiamano neurotipici, cioè modalità mentale, neurologica prevalente, mentre loro sono un po' l'eccezione della mente. Noi comunichiamo mischiando parole, toni della voce, sintassi, gesti delle mani, espressione del viso. Questo per loro è estremamente difficile a decodificare. Invece scrivere vuol dire utilizzare solo i significati delle parole e la sintassi. Quindi si semplifica di molto la comunicazione, si rallenta, e quindi chiaramente diventa molto più facile. E la cosa incredibile è stata che a otto anni, messo davanti al computer, ha cominciato a scrivere, e lui che aveva una conoscenza della lingua italiana perfetta, cioè lui scriveva con le H, con gli apostrofi, con gli accenti, la scelta degli aggettivi è sempre stata ammiratissima, quando c'erano quattro aggettivi più o meno simili come significato, lui ne sceglieva uno, non a caso, perché quell'aggettivo esprimeva bene quello che lui voleva dire, quindi molto padrone del linguaggio e dei suoi significati. E noi abbiamo capito che una persona autistica dimostra intelligenza e capacità molto meno di quanto noi percepiamo, perché la esprime in un modo diverso questa competenza, la esprime in modo autistico. Noi cerchiamo di leggerla in modo neurotipico, al nostro modo, e quindi non cogliamo l'intelligenza che ci può essere in queste persone. Cosa ha significato per la famiglia trovare finalmente il canale per comunicare con Federico? Ah, è stata un'esperienza molto bella, perché molto spesso ci si ritrovava tutti quanti attorno a lui, attorno al suo computer, si dialogava con lui, anche il fratello, anche la sorella. E poi, diciamo, io mi sono lanciato un po' di più in questo, perché ho passato lunghi pomeriggi, quando lui aveva 14-15 anni, di domenica, pomeriggio, io e lui a conoscerci, perché non ci eravamo mai conosciuti. Dico, ma ti piace il pollo? Ma cosa ne pensi, no? E lì, per esempio, ho scoperto, sono rimasto molto soppeso, che lui credeva in Dio, che lui desiderava fare la cresima e la comunione come avevano fatto alcuni suoi compagni di scuola, no? E quindi lì cominciò poi il percorso con la nostra parrocchia, lui ha fatto il percorso di formazione alla cresima, io lo accompagnavo, tutti questi ragazzi in circolo parlavano di vari temi, lui con una segna davanti scriveva e partecipava alla discussione del gruppo scrivendo. Lì ho visto che lui scriveva delle cose, perché gli autistici hanno molto spesso una geometria della mente differente, cioè loro fanno fatica a fare cose che per noi sono banali, però poi lui da altre parti ha capacità che noi non abbiamo, di arrivare, come dire, al fondo dell'umanità, a cogliere delle cose particolarmente belle, vere, importanti, e quindi quando si leggono i suoi testi molto spesso si rimane stupiti. Lui si definisce io sono il tipico giovane handicappato emergente, che è un'espressione secondo me meravigliosa, perché c'è la visione della concretezza, c'è l'handicap in limite, però c'è emergente, cioè che anche se io ho un limite posso però eccellere in altre cose, e poi c'è il concetto di tipico, cioè state attenti che io sono un autistico che scrive e fa delle cose belle, ma dopo ne verranno anche altri, piano piano si camminerà come lui scrive verso la società della piena integrazione. Sono persone alle quali tu conoscendole non daresti molto credito, non penseresti mai che siano in grado di mettere giù una frase con un verbo coniugato correttamente, invece poi scopri che al loro interno hanno una capacità di elaborare informazioni e anche una capacità grammaticale, sintattica, che è molto al di là di quello che uno si immaginerebbe. Tant'è che possono anche scrivere libri, ma sono persone che se le incontriamo lei ed io al bar non ci farebbero tutto sommato un'impressione particolarmente bella e invece hanno delle doti di ordine e di memoria viso-spaziale che sono veramente incredibili. Allora, cosa voglio dire? La società ha da guadagnare molto dall'integrazione dei soggetti autistici, i più dotati, ma anche quelli che in apparenza sono i meno dotati. Il soggetto autistico ha molto da guadagnare dal fatto di non essere lasciato in balia del suo disturbo e quindi chiuso in un angolo laddove il suo disturbo vorrebbe relegarlo. L'integrazione è possibile e arricchisce il soggetto autistico ma arricchisce moltissimo anche la società che ci sta intorno. Spieghiamo in cosa consiste questo metodo perché Federico per poter scrivere ha bisogno di una persona vicina che lo aiuti. In cosa consiste? Lui mi ha spiegato che lui ha questo costante problema di perdere la concentrazione quando un'attività è piuttosto lunga e quindi infatti lui in totale autonomia scrive piccole frasi tipo sono felice di rivedervi sono contento di andare a pranzo però se deve scrivere un concetto che dura quattro righe lui arriva a un certo punto e si perde. Per non perdersi la cosa che lo aiuta molto è avere diciamo questo pugno sulla spalla che diventa un segnale neurologico che lui avverte che si parallelizza rispetto all'attività che lui sta svolgendo di scrivere e questo fatto che ci siano due cose in contemporanea lo aiuta a tenersi concentrato. A volte lui se lo fa anche da solo perché si mette una mano così e si racconta una storia mentre scrive per avere due attività due attività mentali disgiunte parallele è una condizione che per lui lo aiuta a mantenere la concentrazione. Federico ti ricordi quando hai cominciato a scrivere con il tuo papà? Ti ricordi cosa hai provato? Sì ha ragione. Lo sta anche dicendo. Ecco il lavoro che facciamo con la nostra locopedista è che la scrittura diventa un gradino per imparare a parlare e il metodo è cominciato con una mano sotto il polso e piano piano questo si è arrivati al pugno sulla spalla e chiaramente già lui scrive molte cose senza e l'obiettivo ovviamente è che lui arriverà un giorno a scrivere solamente da solo quindi questa è un'impalcatura transitoria. Aver trovato questo canale vuol dire che tutto risolta. l'autismo è sempre una condizione che comporta fatica dolore preoccupazioni per il futuro momenti anche di scoraggiamento no? perché è umano che sia così però abbiamo scoperto anche una grande gioia anche perché quando lui ha cominciato a scrivere e quindi a conquistare un po' di autonomia nel gestire la realtà perché perlomeno poteva dire quello che voleva fare e poi gli altri lo aiutavano io pensavo che lui volesse subito recuperare la vita che non aveva mai vissuto invece lui ha deciso di mettere questa sua capacità al servizio degli altri autistici ha detto la mia missione è aiutare gli altri autistici che cosa ho detto? niente ok e gli altri autistici i loro genitori a comprendersi e quindi si è lanciato in questa impresa attraverso i libri attraverso facebook dove lui risponde a domande dei mamme che hanno bambini autistici e quindi questa è diventata la sua missione ed è diventata anche un po' la mia insieme con lui fino al punto che diciamo il rapporto padre figlio secondo me è un po' passato in secondo piano non siamo più tanto padre figlio siamo due persone che insieme vogliono vivere questa avventura di cercare di dare una mano nei tanti casi in cui tra figli autistici e genitori non ci si comprende e le cose non vanno verso il meglio verso il miglioramento ma in molti casi o sono bloccati o addirittura vanno verso il peggioramento e noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare la nostra esperienza di parlare di emotismo positivo di parlare di speranza Federico tu hai scritto due libri perché hai voluto scrivere questi libri? a che ne so a che ne so a che ne so mettila ti chiedo scusa tu ti chiedi di me vado via? eh? vado via? no, non andare via ok va bene hai ragione sta bene hai ragione sta bene ma niente per far comprendere l'autismo a chi non lo vive in prima persona la vostra è una grande storia di speranza però è giusto anche non dare false illusioni non tutti tutti i ragazzi autistici sono come Federico sì come però scoprire le potenzialità di altri ragazzi autistici? c'è un aspetto secondo me molto importante nella nostra società noi tendiamo a credere che quando io agisco sto cambiando la realtà nel bene o nel male quando io sto parlando sto cambiando le relazioni nel bene o nel male finché io penso invece sono nella mia mente come in una fase diciamo antecedente l'agire mentre invece non è così perché quando io nella mia testa mi formo un'idea una convinzione poi io mi comporterò di conseguenza quindi io vedo delle famiglie in cui non si riesce neanche a capire quello autistico a cosa potrebbe arrivare perché i genitori sono convinti che sia una disgrazia ed è comprensibile allora il bambino guarda questi genitori e dice ma come per me non c'è speranza allora viene preso dall'ansia dall'angoscia i comportamenti di problema aumentano diventano sempre più pervasivi i genitori vedendo questo dicono allora avevamo ragione a dire che non c'è speranza e si crea un avvitamento di una situazione che va sempre peggio noi invece cerchiamo anziché di vivere questo avvitamento di vivere un circolo virtuoso cioè noi cerchiamo sempre di pensare che c'è una possibilità in più che c'è una nuova autonomia da conquistare noi diciamo una nuova autonomia al giorno ogni giorno facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto perché se io penso che c'è un futuro positivo aumento dell'abilità che questo futuro positivo si realizzi perché io se ho un'idea di questo tipo mi comporterò di conseguenza quindi Federico ha battuto tutte le previsioni anche i suoi nero psichiatri l'hanno detto più volte non aveva mai pensato quando aveva sei anni che lui potesse perché stava tutto il giorno con le sue stereotipie chiuso non c'era proprio modo di bucare questo muro e entrare in relazione in qualche modo anche banale anche da bambini proprio non c'era modo e invece con la speranza credendo che ciò è possibile si attuano i comportamenti conseguenti senza che uno neanche se ne accorge quindi io dico ai genitori che hanno figli autistici io dico credetene i vostri figli credete che possono fare un passetto al giorno perché se a me mi avessero detto a 14 anni Federico a 20 anni scriverà dei libri e diventerà uno scrittore famoso io avrei detto no ma questo è più bello di un sogno non ci arrivo neanche a sognarla questa cosa qui si è realizzata qualcosa che va oltre un sogno come? con la speranza credendoci avendo visioni positive e con un grande impegno quotidiano anche con fatica no? con perseveranza perché con la nuova autonomia una cosa che non hai fatto ieri non tanto che impari una cosa nuova ma ti convinci che il tuo autismo non è una prigione ma è un percorso e questo dà all'autistico la speranza e quando l'autistico la speranza cambia il mondo perché anziché essere oggetto di terapie come se fosse una macchina rotta da aggiustare diventa soggetto di terapie c'è una grande differenza fra essere oggetto di terapie ed essere soggetto di terapie perché il soggetto lotta anche lui Federico nel suo libro ha scritto per descrivere questo un'espressione bellissima se là dove c'è il vuoto poggi giù un mattone al giorno potresti scoprire un giorno di aver costruito una grande cattedrale la cattedrale dà il senso dell'immensità dell'imponenza del vuoto della pietra no? è bellissimo dove? dove c'era il nulla perché? perché hai messo giù un mattone al giorno però non ti fermare mai come vede il vostro futuro? bello bello perché siamo spesso in giro per l'Italia e per l'Europa attiviamo tante nuove iniziative io li faccio da segretario lui decide tutto quando ci contattano ci propongono io gli scrivo Federico cosa ne pensi ti va? non ti va? e quindi noi proviamo a lanciare nuove iniziative alcune di queste poi muoiono e si vede che non era quella la strada altre invece si apre la strada per camminare e quindi andiamo avanti e quindi penso che sarà un futuro molto bello io oramai ho quasi 60 anni perché tra poco ne faccio 59 però spero di ci tengo e mi impegno per restare giovane ma non per una vita così generica perché io voglio vivere questa avventura qua voglio vedere come va a finire sono a vedere il film della mia vita dico non posso andare via prima che ci sia il finale più bello io sono sicuro che il finale sarà un trionfo Federico tu hai un desiderio per il tuo futuro non dire sciocchette ok va bene non te lo dico è inutile ti chiedo scusa città vado via vado via vado via no andare via ok va bene andai a coppare ok è inutile che cosa ho detto niente ok va bene andai a coppare è inutile ti chiedo scusa città città che cosa ho detto niente ok va bene d'accordo sciocchette ti chiedo scusa no non fa niente vado via vado via no non andare via ok va bene andai a coppare ecco il mio desiderio è non avere desideri le aspettative sono pericolose voglio lasciare scorrere una vita libera da ogni mia pretesa